Sì, Presidente, cercherò di essere il più breve possibile. Questo è un ammendamento molto importante e riguarda un argomento che è caro a tutti, riguarda la vita degli anziani, il benessere della vita degli anziani. E appunto per raggiungere questa ricerca del benessere della vita degli anziani, perché se ultimamente sono sempre di più le persone che innalzano la loro età e riescono quindi ad avere una vita più lunga, e altresì è molto importante cercare di fare in modo che questa vita prolungata, rispetto ai decenni passati, possa però svolgersi nel miglior modo possibile. possa cioè essere vissuta in modo il più possibile sano, autosufficiente, vivace e con tutte le possibilità che la nostra società ci offre. Quindi è molto importante inserire questa peculiarità, anche perché so che anche i colleghi sono molto vicini a questo tema. Volevo però con l'occasione, visto il tema, rassicurare il collega Figlio Meni e anche gli altri che hanno più volte chiesto il regolamento dei centri anziani che abbiamo protocollato all'epoca e che stavamo addirittura ad arrivo, purtroppo lo stiamo rivedendo perché sono uscite le linee guida della regione su questo regolamento. e quindi stiamo cercando di uniformarlo, accogliendo le cose che riteniamo possano essere accolte. Quindi volevo anche rassicurare che anche su questo fronte a breve avremo delle notizie. Grazie.